non capisco a volte c'è luce a volte siamo in piena palpadana non capisco come funziona allora eravamo rimasti allora eravamo rimasti qui la fortuna di un provinciale Correggio è l'unico tra i grandi maestri del XVI secolo a non aver vissuto in uno dei centri principali di produzione artistica né ad aver lavorato stabilmente per una corte Correggio era una sede di una piccola corte aristocratica mentre Parma era una città periferica del Ducato di Milano e dal 1521 dello Stato Pontificio da quest'area geografica tra Parma, Modena e Mantova l'opera del Correggio si diffuse alla sua influenza in maniera straordinaria giungendo a diventare modello per la grande decorazione barocca il rigore neoclassico e il sentimento romantico nonostante l'assenza del pittore dalle gerarchie cortigiane stabilite da Ludovico Ariosto nel 34esimo canto qui hanno sbagliato a scrivere perché 4 si scrive 1 e V invece guardate come l'hanno scritto con le 4 barrette comunque dicevamo nel 34esimo canto dell'Orlando Furioso e da Baldessar Castiglione nel cortegiano nel corso del Cinquecento intorno al pittore si inizia a delineare un'aura leggendaria basata sull'uso di topoi retorici Giorgio Bazzari assegna così a Correggio l'onore condiviso da pochi altri artisti di una citazione nel proemio alla terza parte delle vite nell'edizione del 1550 Bazzari lo ricorda con un carattere schivo e melanconico e come colui che fu il primo in Lombardia che cominciasse cose della maniera moderna ne elogia i colori da lui maneggiati i cappelli fatti con tanta facilità nella difficoltà del farli nonché alla grazia, alla morbidezza, alla delicatezza sottolineando inoltre che se l'ingegno di Antonio fosse uscito di Lombardia e venuto a Roma avrebbe fatto miracoli simili all'oggi e spesso errori simili tornano nella seconda edizione delle vite del 1568 un forte incentivo all'affermazione del provinciale Correggio sarà anche l'elevazione di Parma al rango di capitale del ducato farnesiano 1545 soprattutto nella seconda metà del XVI secolo il forte legame tra i farnesi di Parma Roma e l'entourage imperiale garantì la diffusione di motivi formali correggeschi fuori dai confini dell'Emilia artefici di questa diffusione furono i pittori legati al gran cardinale Alessandro Farnese chiamati per lavorare le varie imprese farnesiane tra Roma e Caprarola i pittori parmensi scesi a Roma al servizio del cardinale portarono con loro una cultura figurativa che fino ad allora non aveva avuto particolari fusioni con la maniera tosco-romana il rapporto con Correggio è poi fondamentale per l'evoluzione dell'opera di un'artista come Taddeo Zuccari tramite il quale suggestioni correggesche giunsera Federico Barocci probabilmente l'occasione del suo giovanile soggiorno romano preferisco fermarmi qui per adesso grazie! 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 Grazie.